Cosa succede in città? Beh, ci sono proteste in tutto il mondo. È nota la protesta dei camion in Canada che sta invadendo anche l'Europa e sta ottenendo risultati. Grazie a tutti. 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 Si è parlato tanto di Novak Djokovic. Non lo hanno accettato al torneo di tennis in Australia. Ci saranno altri torneo di tennis. Cosa farà lui? Grazie a tutti. informazioni che ho ricevuto, ho deciso di non prendere il vaccino di oggi. Quindi, as di oggi? Sì. I keep my mind open, perché noi siamo tutti cercando di trovare, una soluzione migliore possibile per il Covid-19. Noi non vogliono essere in questa situazione che abbiamo lavorato in, in cui ho lavorato per due anni, io sono parte di un sport, un sport molto globale, che è giocato ogni ogni settimana in un'altra locazione. Quindi, io comprendo le conseguenze della mia decisione, e una delle conseguenze della mia decisione è non andare a l'Australia, e io ero preparato non andare a lì. E io comprendo che non essere vaccinato oggi, non sono stati in grado di passare a tutti i giorni, e che è il prezzo che stai a tutti i giorni. E che è il prezzo che stai a fare? E che è il prezzo che stai a fare? Ma che stai a fare? Ma se stanno, se questo significa che ti mi hai messo il Frenzio dell'Opino, è questo che ti mi hai messo a fare? Sì, è quello che ti mi hai messo a fare. E se ti mi hai messo a fare questo anno, è questo che ti mi hai messo a fare? Sì. Perché? Perché le principali del decisione di fare in mio corpo sono più importanti che nessun titolo o nessun altro sto cercando di essere in attesa con il mio corpo come posso un nuovo compagno appena arrivato negli Stati Uniti dal Giappone Sakiro Suzuki figlio di un dirigente Sony inizia la lezione e la maestra dice adesso facciamo una prova di cultura vediamo se conoscete bene la storia americana chi disse datemi la libertà o datemi la morte la classe tace ma Suzuki alza la mano davvero lo sai Suzuki? fa la maestra allora di noi i tuoi compagni fu Patrick Henry nel 1775 a Philadelphia molto bene bravo Suzuki e chi disse il governo e il popolo il popolo non deve scomparire nel nulla ancora tutti zitti qualcuno sotto il banco ma Suzuki con la mano alzata fu a Pramo Lincoln nel 1862 a Washington allora la maestra si meraviglia cioè beh ragazzi vergognatevi Suzuki è giapponese è appena arrivato nel nostro paese e conosce meglio la nostra storia di voi che ci siete nati si sente una voce bassa bassa vaffanculo bastardi giapponesi chi è stato a dire questo? fa la maestra e Suzuki prontamente il generale McArthur nel 1942 presso il canale di Panama e lì la cocca al consiglio di amministrazione della General Motors a Detroit nel 63 l'altra voce più convinta anche in cassata fa se succhiamelo la maestra adesso basta e voglio sapere chi l'ha detto Suzuki Bill Clinton a Monica Lewinsky nello studio male della Casa Bianca a Washington nel 96 altra voce dal fondo Suzuki del cazzo chi è stato? Valentino Rossi rivolgendosi a Capirossi al vero premio del Sudafrica nel 2009 la classe esplode urla di isteria banchi rovesciati si spalanca la porta entra il bidello non ho mai visto un puttanaio del genere Silvio Berlusconi Palazzo Grazioli in ottobre 2010